Ciao a tutti, brevissimo video per informarvi che parteciperò per la seconda volta al programma televisivo 1000 modi per alzarsi dal divano, avevo già partecipato l'anno scorso e praticamente è un programma che c'è da lunedì al venerdì alle 15.30 sul canale 163 di Sky o 134 del Digitale Terrestre praticamente manderanno in onda le mie videoricette, quindi potrete guardarmi in tv è una cosa carina, la prima puntata dove ci sono io ci sarà il 22, quindi il 22 alle 15.30 se volete guardarmi in tv sintonizzatevi e vi lascio anche nel box informazioni il link per il sito dove potete votarmi non dovete iscrivervi ma soltanto accedere tramite facebook, quindi è abbastanza easy e lì potete votarmi, se vi va vi lascio il link nel box informazioni quindi spero che mi guarderete, un bacione e alla prossima, ciao! 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 Ciao!